Allora sono in tre ed è subito Tommaso Carraro al comando e poi abbiamo, mi sembra di aver visto Carini e Stella, sono loro tre, mancano anni credo. Comunque è Carraro che con il suo salto a tre, bellissimo, in fondo alla terza linea, sta già girando sull'ultima curva ed è Tommaso Carraro che chiude in prima davanti a Stella e davanti al 3-4-1.